Prevenire la violenza di genere anche sui luoghi di lavoro. Se ne è parlato ieri pomeriggio nella sede della Web Help a Pescara in via Conti di Ruvo. L'iniziativa è stata promossa dalla Fistel Cislabruzzo Molise e dalla multinazionale francese, leader mondiale nei servizi del Customer Service. Cos'è la molestia? Quali sono i comportamenti ritenuti sessisti? Cosa si intende per condizioni di lavoro discriminatorie? Ma soprattutto cosa si può fare concretamente nelle aziende alla luce anche della Convenzione 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro entrata in vigore il 29 ottobre che insieme alla raccomandazione ILO 206 riconosce il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie comprese quelle di genere. Prevenire comportamenti che possono in qualche modo risultare lesivi della dignità altrui si può anche attraverso la formazione. Un modulo formativo anche nell'ambito della formazione su salute e sicurezza dedicato al rischio violenza e molestia sul luogo di lavoro. Questo anche per rispondere un po' all'appello che ci viene da parte del legislatore nazionale. Infatti la legge di ratifica della Convenzione OIL sul tema della violenza e molestia sul luogo di lavoro ci chiede appunto di aggiornare il documento di valutazione dei rischi tenendo conto anche del rischio violenza e molestia sul luogo di lavoro. Dare concreta attuazione a una norma è possibile grazie alla collaborazione attiva con le parti sociali che giocano un ruolo strategico. Allora noi come sindacato cerchiamo sempre di monitorare, di vedere anche se ci sono atteggiamenti particolari di qualche dipendente che ti lascia capire che è un disagio e da lì bisogna avvicinarli ma bisogna avvicinarli con tanta cautela perché poi noi siamo sindacato che tuteliamo il posto di lavoro ma non siamo degli psicologi quindi bisogna avvicinarli con cautela e poi farli avvicinare a loro volta a chi è del settore. Tanti progetti che possono nascere dalle sinergie e che rientrano nelle buone pratiche. Un progetto di Impact Hiring che è proprio un'attività che riguarda la ricerca e la selezione intenzionale di figure che hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Non parliamo magari tanto delle giovani generazioni ma parliamo magari di signore che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro o magari anche signore che rivolgono la loro indipendenza e che hanno rinunciato alla loro attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia.